La luna si leva alle 21 e 24 e tramonta alle 7 e 08. La fase è la luna piena. Ad Alberto di Praga, boemo di origine, ha 27 anni e già arcivescovo di Praga. È il secondo pastore della città ma in questa terra ancora pagana Adalberto vede fallire il suo sforzo di evangelizzazione e nel 988 abbandona Praga per Roma dove si fa benedettino. Papa Giovanni XV però lo rimanda a Praga. È ancora un fallimento. Nel 994 torna al suo monastero sull'Aventino fino al giorno in cui si dirige al nord, missionario tra i prussiani. Il re di Polonia, Boleslao, il Valoroso, lo aiuta con una scorta a penetrare in Prussia fino ad Anzica. Prosegue quindi inerme con pochi monaci ma il suo lavoro missionario dura appena pochi giorni. Nella primavera del 997 il santo e i suoi compagni vengono trucidati presso la costa baltica. Se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto.